Presidente Alessio Tombesi, si ricomincia questa avventura di A2 per il secondo anno consecutivo, girone difficilissimo, però voi siete lì e sicuramente con le vostre buone ambizioni. Sì, un girone complicato, tosto, perché comunque le squadre fatte di combattere laziali, Campania-Bruzzesi e Marchigiano. Comunque noi siamo pronti, come ho detto sempre, rispetto di tutti, paura mai di nessuno, le partite vanno giocate in campo, noi cercheremo di conquistare sempre il massimo. Massimo naturalmente con qualche pensierino oltre, anche se quest'anno in effetti San Giuseppe Vesuviano fuori grotta sono le favoritissime e ci sono tante laziali con tanta voglia agonistica di mostrare il massimo. Tra l'altro si comincia proprio con una nobile decaduta come la Lazio, proprio Ortona. Sì, iniziamo subito con una gara difficile, una squadra che retrocesse dalla 1, che ha delle origini importanti, comunque ha dei campionati alle spalle. Però, ripeto, noi sappiamo della nostra forza, abbiamo una squadra, secondo me, completa in tutti i reparti. Palasport di Ortona di nuovo, dove gioca la pallavolo per il secondo anno consecutivo, una deroga, però il passaggio di consegne da Ricci a Marsuoli. Sì, abbiamo scelto Gianluca che comunque ha esperienza da tanti anni, mi sembra che sia il 22esimo anno che allena nel calcio al 5. Una curiosità, Gianluca Marsuoli è allenatore abruzzese che ha vinto di più. Sì, questo non lo sapevo, però speriamo che continui a vincere, perché così almeno saremo contenti anche noi. Un allenatore di assoluto rispetto, ma come lui comunque abbiamo anche preso, penso, un bravo preparatore atletico, Gonzalo, che viene dall'esperienza a quel sapone dove ha allenato l'Under 15. Noi siamo pronti, adesso bisogna soltanto sudare e lavorare. Quest'anno la presentazione è stata di un vestito di colore diverso, nel senso che abbiamo preferito farlo qui in piazza, davanti ai nostri tifosi, al pubblico, in occasione della Gran Gala della Moda. Si è stato chiesto di partecipare, noi abbiamo accettato questo evento qui. Grazie.